Allora lascio volentieri la parola. Allora, vediamo chi lasciamo la parola sulla base del microfono. Non lo so. Sì? Ok, si sente. Quindi l'ho già presentato, passerini di Fastbooking. Ma molto brevemente, Fastbooking è un'azienda che nasce in Francia, a Parigi, ha sedi in Italia, Singapore, Stati Uniti e India. Io rappresento la filiale in Italia, come direttore generale, con 20 persone al suo seguito. Ci occupiamo prevalentemente di sviluppare sistemi di informazione tecnologica, di portali turistici e di strumentazione, per accrescere il numero di visitatori e di acquirenti sui siti ufficiali delle strutture, tramite sviluppi propri di informatica, ma anche con grossi partnership e sinergie, con grossi aziende leader in questo settore, che possono essere anche portali turistici esterni alla nostra struttura. Il nostro modello di business si compone anche della creazione di portali internet che veicolano i visitatori e gli acquirenti su web direttamente sui siti ufficiali, accrescendo anche la popolarità del link del sito ufficialo delle strutture. Direi che questo per il momento possa essere tutto. Va bene. Passiamo a tutti i nostri ospite in ordine solo di presentazione, e quindi lascio la parola a Reditech Nicola Seghi. Buonasera, grazie della partecipazione. Io sono di Reditech, sono lo specialista del business online. La nostra è un'azienda da 25 anni sul mercato della fornitura di servizi di IT, technology, a diversi comparti industriali, e questo noi lo consideriamo un elemento di vantaggio, perché ci consente anche, possiamo dire, una forma di contaminazione fra esperienze in diversi settori. Quindi l'i-tourism, il business online nel turismo, rappresenta oggi una divisione molto dinamica. Noi offriamo un prodotto di punta che è il nostro PMS, quindi un sistema di gestione alberghiera, che è accompagnato naturalmente in maniera integrata e nativa da strumenti che facilitano e progressivamente raccoglieranno sempre maggiore importanza la distribuzione online diretta e indiretta. Quindi sito web, quindi ottimizzazione, quindi piattaforma di booking per associazioni, gruppi e consolidatori dell'offerta, channel manager e sistemi di comparazione professionali per quanto riguarda l'identificazione e il posizionamento di prezzo. La nostra azienda è molto attenta all'innovazione per quanto riguarda la distribuzione digitale. Abbiamo in progetto anche alcuni nuovi interventi, anche partnership, perché per noi disintermediazione è un concetto molto ampio che transita anche e non solo da strumenti che non sono connessi al web, ma da politiche di gestione della destinazione, da meccanismi di geolocalizzazione e geomarketing, e quindi cerchiamo con la nostra fornitura che non ci piace dire che forniamo software, ma ci piace dire che forniamo servizi. Un software, secondo noi, è un word processor, mi viene fornito un excel, un foglio elettronico, e nessuno mi deve insegnare a fare calcoli o le statistiche piuttosto che a scrivere un poema, uno strumento di booking online, uno strumento che può essere neutro, può essere poco efficiente se dietro non c'è una cultura aziendale nella struttura ricettiva. Fra l'altro è il nostro mercato, noi siamo focalizzati sul mercato della ricettività italiana, che ha le sue caratteristiche. se dietro non c'è una persona, non c'è un gruppo di lavoro che ha una mentalità adeguata per sfruttarne al meglio, anche criticamente, lo sviluppo contemporaneo. Questa è un po' l'essenza, siamo 150 collaboratori, abbiamo un gruppo di aziende che va a forniture di sistemi gestionali, aziendali di grandi dimensioni, fino a strumenti di amministrazione. Perfetto. Allora, finora tutto liscio, ci siamo presentati, vogliamo un po' che io vorrei portare al cuore del problema. Forse sono stata scelta per questo panel, permetto che sono docente, quindi non ho un'esperienza diretta, non sono albergatore, e gradirei che gli albergatori presenti, ho chiesto il microfono, perché al di là di Twitter, quale io sono, per l'amor di Dio, l'ho insegnato anche, lo insegno continuamente a scuola, però il dibattito sia reale, quindi gradirei domande, gradiremmo tutti quanti con l'organizzazione, domande direttamente dal pubblico. Allora, il mercato, grazie a internet, è cambiato moltissimo. Facciamo, mi scuserete, una rapidissima sintesi, in parte fatta anche questa mattina. Prima era abbastanza chiaro, il sistema distributivo, per cui hotel, tour operator, agenzia di viaggi, turista, quindi sostanzialmente il passaggio era molto consolidato. Adesso siamo, come è successo anche in altri mercati, non solo quello turistico, internet ha sconvolto determinati equilibri. Si dice che internet è il luogo della disintermediazione per eccellenza, sicuramente quella informativa, quella politica tutto sommato ha fatto sì che si ribaltassero determinati sondaggi iniziali grazie all'utilizzo del mezzo. Però, e mi è successo a volte di proiettare questa slide del Politecnico di Milano, analisi B2C, dell'e-commerce, anche in campo turistico, che è il settore principale, abbiamo una grande concentrazione del mercato. concentrazione non è la stessa cosa di disintermediazione, però sono due elementi che sono abbastanza collegati. Io mi sono stupita dalla percezione che avevo di quanto comunque sia ancora concentrato questo mercato, però non è un concetto, lo voglio mettere in maniera neutra, evidentemente ci sono delle competenze che hanno fatto sì che molto del mercato turistico ad oggi venisse e ben veicolato attraverso determinati big player. Approfondirei qui a questo punto con il concetto di disintermediazione. Che cos'è la disintermediazione? è chiaro, ogni albergatore qui presente potrebbe dire io vorrei avere una prenotazione diretta, però c'è sempre una qualche dipendenza se non altro verso una anche intermediazione dell'informazione. Quindi se andiamo un po' sul filosofico, cos'è per voi il concetto di disintermediazione? Parto io. È abbastanza evidente anche perché da qualche mese siamo titolari e abbiamo aperto il blog che è www.disintermediazione.it che vorrebbe e ha l'ambizione di essere un po' il punto di confronto anche con gli operatori dell'intermediazione su cos'è l'intermediazione, i vantaggi, gli svantaggi, eccetera. Io posso solo darvi la mia esperienza personale che è un'esperienza che ha 15 anni. Ho iniziato questo lavoro nel 1996 decidendo di andare a lavorare su internet su un'azienda che era la prima azienda di web marketing venuta in Italia dagli Stati Uniti e seguivo l'area di Venezia come rappresentante commerciale di questa azienda e come ci si faceva all'epoca? All'epoca non c'erano neanche le caselle di posta delle aziende perché si lavorava ancora con le reti universitarie che ci davano le caselle di posta. Internet nasceva proprio come mezzo che mette in contatto la domanda e l'offerta e abbatte le barriere di comunicazione e di distribuzione. Questo è successo per la musica, questo è successo per il mondo della finanza, probabilmente quello che è successo nel mondo della finanza è dovuto a questa grande rivoluzione che internet sta portando nella cultura, nella socialità tra le persone, nei confronti tra le aziende quindi è un grandissimo impatto epocale. Potremmo paragonarlo a quello che è successo con la rivoluzione industriale, non a caso la chiamano rivoluzione digitale. Come qualsiasi altra rivoluzione porta dei grandi impatti che coloro che li vivono questi impatti nel momento in cui si creano neanche se ne rendono conto di cosa sta accadendo. Quindi noi iniziamo a lavorare in rete proprio con questo primo spunto all'epoca esistevano gli intermediari offline nel senso che il turismo è sempre basato sui canali di intermediazione Venezia per assurda unica città noi veniamo la sede di Nozio è a Mestre di Nozio